Parliamo adesso di un progetto molto interessante, miscelare gasolio e metano su autobus e camion perché diventino più ecologici. Vediamo. 400.000 camion e 60.000 autobus che viaggiano ancora a diesel potrebbero beneficiare del progetto DualNG. Di cosa si tratta? Semplicemente si fa per dire mescolando diesel e metano liquido li si rende meno inquinanti e quindi più sostenibili ed ecologici. Il progetto nasce nel cluster Lombardo Mobilità con il sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Confindustria Brescia e UniBS. Due i prototipi già realizzati si punta ora ad una protoserie di 50 mezzi nei prossimi due anni. Questa tecnologia è particolarmente idonea per i veicoli non ancora obsoleti per migliorare le emissioni. Niente a che vedere con il B-Fuel che usa alternativamente un combustibile o l'altro ma una vera miscela fra diesel e gas metano liquido. Nessuna perdita di potenza o resa ma sensibile diminuzione delle emissioni. Si va a diminuire la quantità di diesel inserita nella camera di combustione a favore di una quantità di metano energeticamente equivalente. Un mix è possibile grazie ad un sistema ideato da Ecomotive Solutions che studia, progetta e installa questa tecnologia da 12 anni. Il gas in un motore diesel non potrebbe funzionare. Il nostro gruppo ha sviluppato una serie di sistemi elettronici che montati su un veicolo tradizionale diesel consentono di farlo funzionare con questa miscela molto vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ecologico. Poco meno di un milione e quattro, il budget totale finanziato per il 55% dall'Europa nel programma Life grazie alla collaborazione con il CSMT. Il CSMT Polo Tecnologico di Brescia assolve proprio a questa missione di fare cerniera proprio fra le idee e la realizzazione pratica.